Buonasera, grazie infinite per essere stati qui, è davvero un complizzo di voi, c'è da me la parola. Sono sempre bravissima, sono sempre bravissima. No, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Grazie anche per essere stati qui, è esatto, un mondo migliore per trovare come sempre, a proposito di amore. Quindi grazie anche per essere stati qui, io penso che tutti quanti sono rimasti un attimino a bocca aperta, sono dei ragazzini fantastici e quindi grazie. Grazie. Buonasera. Allora, senza divulgarmi, io presento il nuovo momento che abbiamo, le ragazze l'abbiamo già visto e vi dico neanche le nostre anime danzanti, quindi se da la legge andano l'ok. Signore e signori, un nuovo momento di anime danzanti e delle modelle di full time. e dopodiché io avrò bisogno di un bicchiere nel tasso ai full time, perché non c'è l'abbiamo. Signore e signori, un nuovo time. Grazie. 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 Grazie.